il mercantile buongiorno sono in partenza per bologna venditori non l'autorizzano il trax max devil max devil oggi è a bologna casaletti di reno con capitani coraggiosi il trax è in movimento stiamo per partire alla nuova avventura di una data che è stata l'inviata per causa la ringite di claudio ma oggi il trax qua i ragazzi sono in partenza eccoli qua maurio di cora non trovate i suoi claudio baglioli, gianni morali direzione casalecchio di reno oggi pomeriggio di debito che domani? più replica? dovresti fare la banca di me? non vi capimenta luce? c'è max devil è il merchandising ufficiale del club diffidato di venditori non autorizzati vendono materiale prodotto illegale amici facciamo la prima intervista della serata no 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 assolutamente no non fan teniamo la banca di me no 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 esos ini dai guarda che... no 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 ti vuoi veder come dai ma come ti vedo? ogni volta li vedo appunto dai nome l'appunto dai nome da dove arrivi da dove arrivi, da dove arrivi? mister è il merchandising ufficiale del club diffidato di venditori non autorizzati vendono materiale prodotto ii legalni Il merchandising ufficiale è solo Max Dan Diffidate ai venditori non autorizzati Prova testa ai tuoi Capitani Coraggiosi Eccoci amici, siamo a Bologna, a Casalecchio di Regno Questo è il track di Capitani Coraggiosi Ormai è tutto pronto, all'interno le prove si stanno consumando Noi al track abbiamo le ragazze di Gianni Tu sei una super fan? No, magari Di chi è? Di uno? Di Claudio Claudio ce l'hai nel tuo cuore Nelle vene Addirittura? Sangue blu? CV Gruppo sanguigno CV Gruppo sanguigno CV No dai ti prego Ascolta, ma come mai questa cosa così Non lo so, ce l'ho da quando avevo 10 anni Che pagava una mia amica che mi cantava e tu E tu? E quindi è entrata? Avevo 10 anni e poi il primo DC Era più grande da magari quella tua amica? No, era la mia stessa età Però era molto brava a cantare Sembra che i suoi cantavano Quella lei la sapeva tutta E lei me la cantava E io le davo qualcosa per far me la cantava Addirittura Stati gli primi soldi spesi per Claudio Quanti concerti quest'anno hai già messo in progetto? Pochi Quest'anno pochi Beh quest'anno pochi Però adesso in aprile ce ne ho diversi Una bella sfiderata Oggi e domani sono qua Io vengo da Parma Poi ho Mantua Una Poi ho Bologna ancora 21 Poi ho Verona Sì, quello non poteva mancare Poi? E basta Ma se ne mettiamo altre a cartello Tu che fai? Ti prenoti? Sì Devo fare quelli dove posso tornare a casa la sera Perché il tuo fidanzato non vuole No, sì, il fidanzato Il marito Il marito Il marito mi lascia libera Ho altri problemi Dove vai? De Baglioni, vai Non è che ti fai accompagnare da lui Non viene mai Non viene, non viene Anche no, grazie, anche no No, mi dice vai pure Ma io non vengo Vabbè, la canzone che stasera il maestro Deve assolutamente proprio Non la fa mai in questo tour Appunto Niente più Niente più Però sono quelle di Gianni Che comunque Le sai quelle di Gianni Le so tutte Le sai tutte Sì, sì Tutte Non mi dice che è tutto disperto Però è il mio cuore per Claudio Fai un saluto al capo, dai Ciao Claudio Ci voglio tanto bene Grazie Ciao, grazie Buon divertimento Quando è che mi vedo? Subito Ciao MaxDevil c'è Ciao Ciao ragazzi Buon divertimento Eh ragazzi Buon ragazzo A Bologna si continua Il mio centrazie ufficiale È solo MaxDevil Diffidate I venditori non autorizzati Tra la testa e i cuori L'opinità di corazzosi I prodotti originali Li trovate solo negli stand MaxDevil Il merchandising ufficiale È solo MaxDevil Diffidate I venditori non autorizzati Amici ci siamo L'operazione è quella di Un'operazione di casa MaxDevil È il merchandising ufficiale del club Diffidate I venditori non autorizzati Vendono materiale Prodotto illegale Ieri Non è potuta passare Non mi ha fatto passare C'era passare domani Giovedì oggi Giovedì 24 Siamo già Giovedì 24 Gruma Ci sono tutti i primi E Si è chiuso In gara 1 Il capitano di corazzosi L'automobile Com'è andato? Guarda Sono entrato Più volte nel palazzetto MaxDevil È il merchandising ufficiale del club Diffidate Da consapevoli Non autorizzati Vendono materiale Prodotto illegale In senso Giovedì carichissimi Appagli Si Poi come al solito Tengono il pubblico Fanno saltare il pubblico Con grande facilità Come sono loro Come sono Grande maestria Con tanto talento Esattamente Cosa Grazie C'è 35 canzoni che cantano, sono tutti bellissimi e la porta portese, porta portese, porta portese, i prodotti originali li trovate solo negli stand MaxDev. Niente, come chiudiamo? Ci vediamo domani? Domani che è già oggi poi. Quindi alle due in tale... Il mercandese in ufficiale è solo MaxDev. Saremo on the road, on the road, on the road, on, 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 on. Sì, 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 sì. Tutto... E aspettiamo per... dove? Allora, Altrac cosa facciamo solitamente in tempo? Beh, c'è l'angolo selfie, quella più grande gigantografia dei nostri caffetani. C'è il diario di World, ormai tutti i fans non possono sparare per lasciare una loro dedica. C'è tutto il merchandising ufficiale della torne. I prodotti originali li trovate solo negli stand MaxDev. Musica, CD, LTV, di tutte le film, insomma, sono andato a tutti voi. Prendiamo le parole, sono delle due... ...e la macchina, la macchina, la macchina, la macchina, la macchina, la macchina. Assolutamente. È un occupamento con 5 LP. L'album fotografico, c'è la fiora limitata. Riassortimento per noi della torne, direttamente da questa base. MaxDev è il merchandising ufficiale del kit. Portano un porto. Venditori non autorizzati. Vendono materiale prodotto illegal. La macchina è la macchina. E lui? MaxDev. E lui? MaxDev. Va bene. Allora abbiamo nel frattempo imboccato la tangenzia. L'autostrada. Scusate, Marco sta facendo l'attività. Seguiteci. MaxDev è il merchandising ufficiale del tour. Vi fidate venditori non autorizzati. Vendono materiale prodotto illegalmente. Per papà che erano scoperte di 3D. E in produzione. Vendono materiale prodotto. Vendono materiale prodotto. Vendono materiale prodotto. Il merchandising ufficiale è solo MaxDev. Allora ma ragazzi ma voi da allora arrivati. Vendono materiale prodotto. Come due. Vendono materiale prodotto. Scusate, voi se siete fatti. Vendono materiale prodotto. Giani 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 Raccontatemi la storia di questa bella questa foto e anche questa i prodotti originali li trovate solo negli stand Maxdel al concetto al concetto a settembre spiegami com'è che ti è venuto in mente il legendasing ufficiale è solo Maxdel il finale di Torino l'utilizzo questo è uno dei più spartiti che siccome già lavoro in un conservatorio di musica allora queste qui sono le fotografie che sbagliamo noi praticamente quindi il materiale di recupero quindi è ecologico poi qui sono le risposte che mi ha dato Giani ah perché tu scrivi su i prodotti originali li trovate solo negli stand Maxdel questo è fatto ma che ideone e poi adesso la partita è buona no 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 bell'idea complimenti noi cerchiamo sempre idee nuove tu hai avuto una grande gente come ti chiami? Cristina una di Bologna una di Bologna ti trovate dove? alla stazione allora hai venuto a prendere te poi siete venute qua quella costa a posto no sicuro e dopo cosa gli raccontiamo i capitani? molte gente allora canzone che stasera deve fare Giani assolutamente Giani deve fare uno scelto uno scelto un saluto a Giani e a Claudio vai ciao Giani ciao Claudio e vai siete bravissimi è vero e da Bologna si comincia con lui Max Day è il merchandising ufficiale del tour vi fidate dei venditori non autorizzati vendono materiale prodotto illegalmente a Giani 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 allora spiegami voi siete arrivati voi avete i biglietti per la data di martedì oggi è giovedì come avete dovuto fare per poter riuscire a venire qua immagino che voi abbiamo annullato i biglietti l'abbiamo ricomprato il caos il caos completo e poi adesso a momenti alla cassa ci sbagliavamo pure a prendere i biglietti no vabbè dopo abbiamo risolto dai allora avevamo all'inizio sei biglietti sei biglietti avevamo perché tutti avevamo chiesto i permessi per martedì pomeriggio al lavoro naturalmente con una macchina prenotata per sei persone con il taxi lunedì ah siete arrivati col taxi da dove è arrivato? da macerati col taxi ma siete figli di paperoni di paperoni nooo io perché sono appassionata ai vaglioni ho capito e io da Giani Morandi però eh il taxi vi ha preso e l'ha portato qua però tu di cosa ti occupi nella vita arbera quella al di là della passione del lavoro sul supermercato faccio la commessa e quindi al tuo capo cosa gli hai dovuto dire? no io subito ho detto avevo chiesto il permesso per martedì pomeriggio mi dispiace giovedì pomeriggio non puoi andare io ho detto vabbè capisco non fai niente poi la titolare ieri mattina dopo che ha annullato i biglietti alle biglietti di sera con grande dispiacere vabbè rinuncio ai biglietti Lorella domani pomeriggio sei libera nooo ci siamo rimesse sei rimessa all'opera per acquistare i biglietti e abbiamo ripreso i nostri biglietti annullati e siamo qui grande sì però la promessa al tuo titolare qual è il bene? che io ho portato il cd dvd e cd ho detto per lo meno voglio quello pronti è la prima cosa che ho comprato domani che venerdì? domani tutta senza riposo sabato che? sabato è normale ma il bello è che devo lavorare lunedì di Pasqua e a casa di tutti i parenti tutto il... e io lunedì lavoro e lunedì lavoro vabbè quindi si fa questo anche per Gianni perché per Claudio? certo anche per Gio no per Claudio però anche per Gianni però anche per allora vabbè mettetevi belle vicine facciamo un aiuto un bel saluto mamma allora da macerata qua è tutto un bel saluto ai capitani vai ciao capitani coraggiosi e da Bologna si inizia così siamo carichi a palla il lunedì si lavora amici benvenuti siamo a Bologna a Casalecchio di Reno e questa è la seconda data di Claudio Baglioni Gianni Morandi capitani coraggiosi oggi è giovedì la data viene stata recuperata perché come sapete è martedì scorso il maestro non aveva la voce per poter fare questo tipo di attività che è cantare e quindi ieri concerto stupendo mercoledì oggi giovedì recuperiamo la data di martedì tutto esaurito anche questa sera al Palasport all'Arena amici benvenuti oggi giovedì 24 marzo e siamo a Bologna a Casalecchio di Reno il pubblico sta per arrivare sono le 18 e 30 minuti circa tutto è pronto le prove sono state già maestri si sono ritirati nei loro camerini oggi si recupera la data di martedì il maestro è in piena forma ieri sera concerto a palla amici vi aspettiamo per questa sera ultima data di Bologna poi si prosegue per le vacanze di Pasqua e tutto di che amici coming soon capitani coraggiosi i prodotti originali li trovate solo nel stand next day allora siamo pronti tu dove? Silvia Silvia Firenze sei la più scatenata al di questo mediamente mediamente mamma mia il mio dov'è? il nome? il mio telefono il nome linda 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 eccola e poi ecco la testa le calci ma linda 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 io non so chi siano troppo la 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 il Maxdale è il merchandising umsiale del tool diffidatevi venditori non autorizzati vendono materiale prodotto illegalmente Il merchandising ufficiale è solo Max Deller. Difidale, i venditori non autorizzati. Tra la testa e il cuore, la vita di Gesù. Improdotti originali, introdotti solo negli stand Max Deller. Il merchandising ufficiale è solo Max Deller. Difidale, i venditori non autorizzati. I prodotti originali, li trovate solo negli stand Max Deller. Max Deller è il merchandising ufficiale del mondo. Difidale, i venditori non autorizzati. Vendono materiale prodotto illegale. Max Deller è il merchandising ufficiale del tour. Difidate i venditori non autorizzati. Vendono materiale prodotto illegalmente. Il merchandising ufficiale è solo Max Deller. Difidale, i venditori non autorizzati. Infine, i venditori non autorizzati. Funга del sud. Difidale, il marchio è solo Max Deller. Abbringo, il mercatoлект words inside Max Deller. Dice laываем si ognuno autorizzati. Ma come vai? Come hai fatto? Baci! 24, 3, 16 Baci! L'avevo andata a prendere dopo Ma la felicità cos'è? È bellissimo! Grazie Gianni! La felicità è avere l'autografo sulla borsa di Capitani Coraggiosi Ma che spettacolo! Mamma mia un saluto di Buona Pasqua Ciao, Buona Pasqua a tutti! Ciao, grazie, buon ritorno! Ti aspettiamo il 21 No, non ci sembra Dove sei? Dove sei? A Rimini! A Rimini, va bene, alla prossima settimana Buon ritorno! Ciao! 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 Tutti i sogni si avvergono Le radio Sul Vito? No, Sul Vito va a San Reno No, 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 carica sulla macchina live così siamo a posto Amici, questa è la chiusura di Bologna 2 24 marzo Siamo già ormai nel 25 perché sono le 0-1 e 15 minuti Capitani Coraggiosi Gara 2 Bologna Tutto esaurito per due date clamorose Claudio Baglioni Gianni Morandi Nico! Com'è andata? Bene! È andata bene? Sì! Stancante! Stancante! Sì, bene! Ora ci riposiamo Pasqua Pasqua, quindi facciamo gli auguri? Auguri a tutti Buona Pasqua Seguiteci Seguiteci Noi si ricomincia per quando? Il 2 Il 2 Da Bari? Da Bari Andiamo Quindi tutti i bareti e dintorni sappiate che Capitani Coraggiosi Claudio Baglioni Max Den è il merchandising ufficiale del tour Buona Pasqua a tutti Ciao ciao La bene vince Grazie Danny Suggerimento fuoricampo dal professionista del video Ok, ci siamo Ci siamo Buona Pasqua a tutti Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Buona Pasqua Mi ci metto anch'io, dai Ci sono Sono inquadrato Danny Dai, fammela per inquadrare Amici Buona Pasqua Ci amici Al prossimo avventura Ok, c'è Inizio in tesi